Stabiliamo se la relazione da A verso B rappresentata in tabella è una funzione e in caso affermativo classifichiamo la funzione. Classificare una funzione significa stabilire sia iniettiva, suriettiva o bionivoca. Osserviamo la disposizione degli 1 in questa tabella. Cominciamo a analizzare le righe. Nella riga dello 0 l'1 è presente una sola volta, quindi 0 è una sola immagine. Lo stesso accade per la riga dell'1, la riga del 2 e la riga del 3. In ogni riga della tabella 1 è presente una sola volta. Questo vuol dire che tutti gli elementi di A hanno una sola immagine in B. Quindi la relazione R è una funzione. Osserviamo adesso le colonne di questa tabella e notiamo che tre colonne, quella dell'1, quella del 3 e quella del 5 non contengono 1. Questo vuol dire che gli elementi 1, 3 e 5 non hanno controimmagine. Quindi la funzione non è suriettiva. Osserviamo ancora le colonne di questa tabella. Nella colonna dello 0 l'1 compare una sola volta. Questo vuol dire che 0 ha una sola controimmagine. Nella colonna del 2 l'1 compare una sola volta, così nella colonna del 4 e nella colonna del 6. Tutti questi elementi quindi hanno una sola controimmagine in A. Questo vuol dire anche che gli elementi distinti di A hanno immagini distinte. Possiamo dire allora che la funzione è iniettiva. Annette pariettiva. Inovi. Liyle. Parte. Cada junger. Lip. Diadem. Kerna. Di tematica. 恐怖. Yea. Liyle. Quindi いlingt.